In principio era come un sospiro, una promessa, la più leggera delle brezze che danza sulle urla di morte di 300 uomini. Quella brezza ora si è fatta vento, un vento, fratelli miei, di sacrificio, un vento di libertà, un vento di giustizia, un vento di vendetta. Niente potrà fermare la marcia del mio impero. Attaccherò i greci con la flotta al completo. Arriveranno morte e distruzione. Sì, arriveranno entrambe. Sì, arriveranno morte e distruzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.